La prima dichiarazione di Francesco Spina da candidato ufficiale del centro-destra alla presidenza della provincia di Barletta Andrea Trani è stata la mia e una candidatura fortemente istituzionale. Un'affermazione che Spina ha il merito di aver pronunciato, restando serio, visto il percorso che ha reso possibile la sua candidatura con centro-destra e centro-sinistra a inciuciare vergognosamente sino agli ultimi giorni per ottenerne il sì. Dobbiamo però anche dire che a uscire come un gigante da questa vicenda politica è proprio il sindaco di Biceglie. La sua strategia è stata perfetta e gli ha consentito di centrare l'obiettivo. Possiamo tranquillamente parlare di ambiguità elevata d'arte, di doppiezza sublime, di sfrontatezza senza uguali, inenarrabili retroscena di questi mesi, gli incontri con i boss di entrambi gli schieramenti, le richieste al rialzo e alla fine il cedimento senza condizioni del centro-destra, compreso quello di Biceglie, dei cui esponenti, Spina pochi mesi fa così ne commentava i comportamenti. Il problema è un altro, che a Palazzo San Domenico probabilmente chi ha detto mi voglio avvicinare alla gente lo fa, deve dirlo perché era più abituato a stare nell'ufficio tecnico forse che per strada tra la gente perché io non accompagnavo le imprese negli uffici tecnici e quindi non potevo sapere, Casella o l'assessore all'urbanistica di Lollo, i lavori pubblici, le manutenzioni, come venivano gestite da questi amici del PDL. Per non dire delle accuse anche di rilevanza penale e degli insulti che si sono rivolti reciprocamente dai palchi e in tv, nonché dei giudizi espressi ad esempio sull'assessore alla provincia Tonia Spina di Forza Italia che oggi troviamo tranquillamente candidata nella lista a sostegno del suo omonimo sindaco. Altro che vittoria di Giorgino spacciato per un grande stratega, una sorta di cavour del gurgo. Qui abbiamo solo uno Spina Biancaneve che sovrastra tanti nani capaci solo di svendere la provincia in cambio di incerti vantaggi alle prossime regionali. A cercare di contrastarlo il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, che non ne voleva sapere ma che alla fine ha ceduto alle insistenze della coalizione acquisendo un doppio merito, quello di mettere in campo il suo indiscusso prestigio in una battaglia soprattutto etica, visto che quella per la presidenza appare nei numeri fortemente compromessa, e quella di aver evitato il deprimente piano B, cioè la candidatura del sindaco di San Ferdinando, Michele Lamacchia, che sarebbe stata devastante perché sgradita a molti. Naturalmente non manca la parte comica, quella di Spina che nega di essere mai voluto uscire dalla BAT, dell'onorevole Boccia che nega ogni trattativa del centro-sinistra con Spina, dei massimi esponenti del centro-destra che cercano di spacciare una resa che abbiamo detto senza condizioni per una vittoria figlia di una raffinata strategia politica. Credeteci, il cuscino di questa poltrona della trasmissione Spazio-Città è quello che più di chiunque altro ha avuto modo in questi anni di vedere da vicino il vero volto della politica nostrana.